bene ragazzi ciao amici di fisherlandia allora oggi parliamo di light spinning ve lo dico subito e poi vi dirò anche il perché voglio toccare appena questo argomento senza andare chiaramente a parlare dello spinning in generale perché quella sarà una rassegna di video quindi aspettatevela molti di voi me la chiedono che ci sarà più avanti dove toccheremo tutte le varie tecniche di spinning che ci sono oggi e oggi voglio parlare di questo light spinning perché ho avuto qualche richiesta da parte vostra ora ci arrivo innanzitutto inizio e parto col video ringraziando gli amici del team campari col bianco che mi hanno fatto questo bellissimo omaggio questa bellissima maglietta ve la faccio vedere anche dietro che ha un bellissimo logo quindi un gruppo di ragazzi del piemonte molto molto gogliardici che prendono la pesca come passione come sport e quindi grazie ragazzi ancora per questo graditissimo omaggio vi dicevo allora il discorso è questo un po di tempo fa io ho pubblicato un paio di video dove in una pescata a spinning abbiamo utilizzato oltre a diversi altri artificiali un artificiale che è diventato un po un must della pesca leggera quello che tutti in in Italia chiamano ormai cicciolino io non me l'aspettavo neanche ho dato questo nome perché io l'ho sempre chiamato così in realtà si chiama smelt tg è un artificiale giapponese in tungsteno molto funzionale che io ho sempre tenuto un po come jolly e in quei due video ha funzionato chiaramente io sotto il video ho linkato il prodotto e quindi molti di voi l'hanno acquistato online presso il nostro sito internet e molti di voi l'hanno acquistato qua in negozio e l'hanno iniziato a provare se non che alcuni di voi che non praticano lo spinning leggero ma magari lo spinning normale piuttosto che altre tecniche di pesca hanno incontrato qualche problema e voglio parlare con voi del perché avete incontrato questi problemi e magari come riuscire a risolvere primo problema che si incontra pescando a light spinning apro una parentesi il light spinning non è il rock fishing che è ancora un'altra tecnica ancora più leggera e non è neanche lo spinning classico quindi il light spinning si intende una pesca a spinning diretta anche a pesci che possono essere importanti quindi anche pesci predatori di una certa dimensione ma usando esche leggere e comunque piccoline quindi per cercare di stimolare questo predatore quindi dicevamo prima nel light spinning voi avete incontrato due problemi nell'utilizzo di questo artificiale avete incontrato il problema molti di voi mi dicono della distanza di lancio che è chiaramente dovuta a una canna che magari non è per forza di cose adatta a quel tipo di grammatura e un altro problema che avete incontrato è la odiosissima parrucca che si forma sul mulinello quindi ora vediamo il perché succedono queste cose vediamo come poterle risolvere allora la canna da light spinning è una canna che ha una schiena che ci permette quindi io quando parlo di schiena io quando ve ne ho portato un pochino queste vi faccio vedere oltretutto poi vi voglio fare vedere anche questo questo tipo di canna perché queste qua non è che per forza di cose bisogna andare a spendere un sacco di quattrini per trovare delle canne che abbiano un'azione giusta e che siano di livello buono comunque quello poi lo vediamo dopo quindi nel light spinning abbiamo bisogno di una canna che abbia una schiena piuttosto rigida come questa ma sulla lunghezza della canna una abbondante flessibilità quindi possiamo prendere un pesce importante quindi abbiamo bisogno di una canna con una schiena che riesca a contrastare anche un pesce di diversi chili ma nel lancio per ottenere una distanza di lancio abbiamo bisogno della canna flessibile in questo punto e nel punto del pedone secondo quindi nella parte vedete questa come flette in questo modo ora io non sto facendo neanche più di tanta forza perché perché quando voi lanciate un artificiale leggero quello che permette all'artificiale di andare in distanza oltre alla dimensione della bobina della dimensione del filo perché poi il lancio è fatto da tante cose ma la cosa principale è la flessibilità della canna cioè la canna cosa succede che mentre lancia ha un effetto fionda quindi si carica col peso che noi stiamo utilizzando e fa un effetto fionda per andare in distanza chiaramente molti di voi utilizzano giustamente avete provato giustamente delle canne da spinning normali quindi anche una semplicissima canna che può essere un 5 20 un 10 30 non ha questa azione perché non è fatta apposta per lanciare artificiali di così basse grammature quindi se voi avete nel vostro parco canna una canna che abbia una flessibilità prendete il secondo pezzo fate questo lavoro o comunque la montate e la muovete ok quando la muovete se vedete che nella parte centrale la canna flette in modo elastico vuol dire che potremmo potrebbe già andare bene siamo sulla strada giusta nel caso in cui invece vi dovesse appassionare questa pesca diciamo a light spinning teniamo presente che tutte le esche da light spinning vanno variano dai 4 5 grammi perché sennò poi andiamo su un altro tipo di pesca come dicevamo prima rock fishing fino ad arrivare anche a volte a un 15 20 grammi attenzione quindi ci vuole una canna che abbia una funzionalità dentro questa dentro questo range ma vi ripeto non vuol dire che se nella canna c'è scritto 5 20 possa andare bene perché chiaramente ogni canna alla sua azione quindi bisogna fare attenzione nella scelta questo per poterla far scegliere da soli se avete modo di vederle dovete guardare che la schiena abbia questa flessibilità parlando sempre del discorso canna da light spinning le canne da light spinning hanno sempre una spiccata azione di punta quindi una spiccata azione di punta che ci permette di capire cosa sta facendo nostro artificiale nel caso del cicciolino è un capire quando l'andiamo utilizzare sul fondo perché se andiamo utilizzare sul fondo dobbiamo essere pronti e attenti a capire quando l'artificiale tocca al fondo in modo da poterlo poi rialzare e avere il controllo massimo sul su questo artificiale io qua vi ho portato come esempio poi concludiamo il discorso delle canne vi ho portato una serie di canne della nomura che come voi sapete io ritengo essere una ditta veramente che sta facendo delle cose importanti e lo riesco lo riusciamo a capire noi che siamo addetti ai lavori perché vediamo delle differenze vi faccio vedere un esempio questa qui la hero street della lunghezza 2 metri 32 che poi la lunghezza che io consiglio esistono anche le 2 metri 10 ma per l'utilizzo soprattutto in mare un po più di leva di lunghezza ci fa comodo una hero street 2 metri 32 questa ad esempio la 10 grammi poi esiste poi esiste ve l'ho portata qua apposta per far vedere la smontiamo un attimo esiste questa qua che è invece la 16 grammi ok hero street 16 grammi che avrà chiaramente dalla sua un po più di diciamo rigidità in questa parte rispetto a quella di prima se noi siamo e vogliamo usare diciamo artificiali leggermente più pesanti ma sempre con un'azione spiccatamente di punta leggermente più rigida ma spiccatamente di punta fino ad arrivare all'altra terza canna che conclude la serie e vi ricordo che ci sono in tre misure diverse e in tre grammature diverse che è questa qua che ha la 26 grammi la 26 grammi è una canna che può andare bene per l'utilizzo di questi piccoli artificiali a patto che uno poi la vada utilizzare anche con artificiali un pochettino più pesanti diciamo che non è specificatamente per quello però diciamo che potrebbe andare bene quindi anche questa vi faccio vedere anche questa che è quella col cimino arancio ha un'azione spiccatamente di punta questo io ve lo faccio vedere ragazzi perché qua con circa 60 euro 65 euro abbiamo la possibilità di avere delle canne che ci permettono di pescare a spinning leggero se voi ripeto ce l'avete potete provare tranquillamente ma sappiate che se voi non lanciate in distanza non è colpa vostra e non è colpa magari del mulinello non è colpa magari di altre cose ma purtroppo la canna fa diciamo il suo lavoro finché diciamo noi glielo richiediamo nel senso che di più di quello non riesce a flettere nel lancio quindi è inutile che andiamo a strappare a forzare troppo il lancio perché otteniamo poco poco risultato in più questo era il discorso per rispondere a chi mi dice io col cicciolino non riesco a lanciare quanto lanciavi tu io vi ricordo che in quel video che è stato vi ripeto una casualità l'utilizzo del cicciolino poi però ci ho preso l'ecco e quindi ho provato anche ci ho preso gusto e quindi ho continuato a usarla usavo in quel giorno una canna da aging io qua vi ho portato una canna da aging perché chiaramente la canna da aging ha casualmente proprio quella particolarità lì cioè quella che mi serve nel senso che ha una spiccata azione di punta quindi per farci sentire scusate l'artificiale il suo movimento e ha il fusto che è molto molto flessibile in questo punto ma se dovessimo andare a prendere dei pesci piuttosto importanti riusciamo comunque a a portarli a guadino anche questo in pedone abbastanza flessibile quindi questa è la canna da aging che potrebbe andare bene quindi se voi avete una canna da aging state tranquilli ragazzi che potete usarla tranquillamente per questa pesca chiaramente la sensibilità della canna è importante perché adesso noi stiamo parlando del del cicciolino ma se dovessimo parlare anche il light spinning a 360 gradi sono tutti piombati i piccoli minno quindi di piccole dimensioni che potrebbero andare bene potrebbero essere classificati light spinning e anche quelle che sono le gomme con le testine piombate quindi una gomma con la testina piombata magari un paddle quindi una gomma che ha la coda piatta che ha il suo movimento può essere usata e considerata sempre un'esca da light spinning detto questo ragazzi arriviamo a beh io qua poi vi avevo portato anche delle canne tipo le light game ecco vi faccio un esempio la light game questo per dimostrarvi che bisogna sempre un po se comprate online affidatevi a quelli che sono dall'altra parte e che non sono chiaramente non siamo solamente noi ma dovete chiedere un po di cose la light game è una canna che va molto molto bene per questo discorso ma siccome che è una canna proprio da che nasce per il light spinning secondo il mio punto di vista sia per lunghezza perché ad esempio la nomura la fa light game al massimo due metri quindi non la fa più lunga e sia per un discorso di fusto può andare bene ma lanciamo meno cosa che invece va benissimo è l'azione di punta chiaramente questo è un livello di canna leggermente superiore rispetto a questo una canna che va intorno ai 120 euro questa una canna che va come dicevo 60 65 70 euro massimo è una canna che ha una bella azione è una canna che ha un carbonio di più alto livello quindi vi ricordo che le canne con un carbonio di più alto livello sono solitamente canne che hanno più nervosità ma veniamo invece alla cosa che tutti mi chiedete di più perché il problema non è stato tanto nella distanza del lancio in quanto nel discorso della parrucca del mulinello allora la parrucca del mulinello può essere causata da mille cose può essere causata da un mulinello che imbobina male oggi ce ne sono veramente pochi che imbobinano male può essere causata da un imbobinamento malfatto quindi chi ve lo imbobina o se lo ve lo imbobinate voi ricordatevi di stringere sempre molto di tenere sempre molto stretto il filo nel momento in cui lo andate a imbobinare la prima volta perché si deve compattare sulla bobina un altro problema potrebbe essere se mettiamo troppo treciato quindi non andiamo mai col treciato per queste pesche soprattutto leggere a coprire in pieno il bordo della bobina rimaniamo leggermente più scarsi comunque in qualsiasi mulinello e quindi questi sono le cause maggiore ma nel light spinning ragazzi la parrucca è sempre dietro l'angolo nel senso che spessissimo utilizziamo delle esche che sono leggere ma non è tanto la leggerezza dell'esca in quanto è la resistenza che l'esca fa in acqua vi faccio un esempio usiamo il un rapala che pesa 5 grammi ma la paletta molto pronunciata quando io lo lancio e lo recupero il rapala in acqua ha un attrito io sulla canna lo sento mentre lo recupero quindi quando io sto imbobinando il mio filo il filo entrerà con un certo attrito perché la pala sta facendo attrito quando io uso a parità di grammatura un cicciolino che in realtà non ha una paletta e lo devo far muovere soprattutto in questo modo ok nel momento in cui io recupero e il cicciolino sta scendendo il filo in bando quindi cosa succede che il filo si carica dentro la bobina in maniera molto molto morbida molto cioè si gonfia un pochino ecco perché io dico lasciate sempre un po di margine e non arriviamo mai al bordo della bobina io posso fare 5 10 15 20 lanci in questo modo alla fine se io vado a toccare il filo vedrete che lo riesco quasi a schiacciare con le dita benissimo in quel caso siamo già del gatto nel senso che rischiamo che la spira che io vado a recuperare vada a incastrarsi nelle spire sotto che sono molle e che nel lancio la spira sopra si porti via tutto il filo questo purtroppo nel light spinning è una cosa quasi irrimediabile cioè non possiamo farci più di tanto possiamo certamente prendere un mulinello che abbia un imbobinamento più buono di un altro possiamo fare solo una cosa avere e fare attenzione ogni tanto avere l'accortezza e questa poi è una pratica che viene a fare io a volte mi accorgo che lo faccio ma non me ne rendo neanche conto perché lo faccio in modo automatico ogni tot lanci prendo il mio filo nelle dita e inizio a faccio un lancio prendo il filo nelle dita e inizio a tenerlo stretto e inizio a recuperare ricompatto di nuovo il filo e sono a posto per altre eventuali 10 15 20 30 lanci chiaramente voi vedete che io è difficile che faccio questa cosa perché avendo la possibilità e anche la fortuna di provare tanti oggetti al di là del mulinello che uso dei mulinelli semplicissimi perché cioè nel senso sì mulinelli belli li uso anch'io ma spessissimo mi trovate a pescare con mulinelli da 35 euro che vanno benissimo devo direvi la verità la canna ha di nuovo il suo senso perché perché quando andiamo a fare saltellare un'esca se la canna è flessibile e sente il peso dell'artificiale dall'altra parte fa sì che il mio treciato in bobina mi si imbobini in modo compatto quindi questo è l'altro senso che potrebbe avere una canna fatta apposta per questo tipo di pesca vi ricordo che comunque anche se io vado a utilizzare una canna come quella che uso io normalmente per questa pesca anche se vado a utilizzare un mulinello che ha un imbobinamento eccellente purtroppo nel light spinning può succedere se noi l'unico modo appunto è dare un'occhiata alla tenuta del filo quindi alla compattezza del filo bene ragazzi chiaramente poi gli argomenti sono tanti questo volevo dire perché molti di voi mi hanno scritto io avevo sempre paura diciamo di non riuscire scrivendo sulla tastiera a esprimere il concetto quindi ho preferito fare questo video perché in molti me l'hanno detto quindi ragazzi non vi preoccupate cercate di trovare con queste soluzioni la maniera giusta per provare pescata light spinning perché è molto divertente poco selettivo e quindi è anche molto dinamico rispetto ad alcune pesca spinning che magari si possono farmi arrivare a delle catture più importanti però vi assicuro che anche nel light spinning poi vedrete che abbiamo già pronto un altro mezzo video che abbiamo fatto un po di light spinning dalle barche e dalla barca spinning quindi vi faccio vedere che può essere anche interessante light spinning fatto su pesci piuttosto importanti detto questo ragazzi spero che come al solito questo video vi sia piaciuto spero di esservi stato d'aiuto vi ricordo che qua sotto se volete io vi linko il link di queste canne ma ce ne sono veramente tante sul mercato se avete bisogno non c'è nessun problema commentate il video chiamatemi in negozio mi dispiace a volte qualcuno di voi mi chiama più volte io cerco di fare il possibile però a volte siamo un pochettino impegnati quindi non vi preoccupate che arriviamo se ce la facciamo da tutte le parti quindi grazie ragazzi per essermi stati ad ascoltare continuate a seguirci sulle nostre pagine facebook iscrivetevi al nostro canale youtube mettete un like sul video se vi è piaciuto vi do appuntamento a un altro video recensione poi ripartiamo di nuovo con tutta la serie sulla pesca lorata abbiamo avuto un po di maltempo quindi in queste giornate di brutto tempo cerchiamo di infilare qualche video che fa sempre comodo grazie ancora io vi saluto e come sempre che la pesca sia con voi e grazie ancora ti incappari col bianco grandi ragazzi ciao